Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maralino, cantautore, produttore, discografico, indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche formatore, consulente musicale, se è la prima volta che ti imbatto in un mio video ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato con i prossimi video, anche dare un occhietto a tutti gli altri video, guarda le playlist del canale YouTube, ci sono corsi gratuiti, tutorial, passo passo, se sei un musicista che si sta promuovendo da solo, si sta pubblicando da solo, qui trovi un sacco di materiale che ti può essere utile nella tua carriera, Faccio questo video al volo perché vedo ancora che c'è gente che magari si affida degli uffici stampa, ok, per la promozione e quando praticamente il giorno dell'uscita del singolo o del disco non fa niente, cioè ma neanche una storia, neanche una storia su Instagram, neanche una condivisione, L'ufficio stampa lavora, l'ufficio stampa fa uscire i comunicati stampa, l'ufficio stampa vi promuove nelle playlist, ora è il 2021, l'ufficio stampa dovrebbe praticamente promuovere a 360 gradi, quindi occuparsi della parte press, occuparsi di Spotify, delle radio, Se volete una mano per la vostra, diciamo per il vostro lavoro, per il percorso che state facendo, magari vi state autopromuovendo come giusto che sia all'inizio per capire un po' come funziona l'ambiente E volete una mano nella promozione, ci sono i miei pacchetti, trovate i link in descrizione dove io vi aiuto, vi integro, vi faccio ottenere delle pubblicazioni per i comunicati stampa, degli inserimenti nelle playlist, vi faccio uscire delle interviste E tutto questo va ad integrare il lavoro che fate voi, ma poi tutte le cose che fate uscire o che le fate uscire voi che vi state autopromuovendo se volete imparare come fare proprio anche a far uscire delle pubblicazioni Perché sembrerà strano ma un musicista nel 2021 può tranquillamente scrivere un comunicato stampa, farselo pubblicare, prendete il mio corso musicista consapevole, link in descrizione, trovate tutto nel corso come fare E poi potete farvi aiutare da me con i pacchetti di promozione, trovate sempre i link in descrizione Però se esce tutto questo materiale, no? Secondo voi a che cosa serve? Cioè secondo voi serve finire nelle webzine, nei blog? Ok, è ovvio, ci bisogna praticamente uscire, cercare di uscire su testate, su giornali, su webzine importati Però chi parte da zero all'inizio, ok? Per arrivare, diciamo, non è che arrivi subito, ok? A parte alcune eccezioni, ma in un percorso standard all'inizio tu parti e ti inizi a pubblicare quel blog piccolo, quella webzine Però tutto questo serve per anche dare, diciamo, un'immagine di te professionale E come si fa a dare questa immagine? Proprio condividendo, se no non serve quasi a niente, ok? Cioè, ha più, secondo me, valore, è più funzionale A voi che ricondividete sui vostri social, fate le storie su Instagram, il materiale che esce, piuttosto che avere l'articolo, il comunicato stampa pubblicato su quella webzine, ok? E' ovvio, vanno bene entrambe, però capite che c'è un vuoto Se voi vi organizzate con un ufficio stampa e iniziano ad uscire i comunicati stampa, le interviste, le recensioni E poi però non li ricondividete sui vostri social, sui vostri profili, soprattutto su Instagram, non fate delle storie, non rilanciate Ma insomma, io quando ho iniziato qualsiasi mosca, cioè qualsiasi cosa usciva, volava anche una mezza mosca Io lo scrivevo, lo condividevo su Facebook, su Instagram, cioè quando promuovi qualcosa, la devi promuovere E ovviamente puoi delegare la parte press, ovviamente all'ufficio stampa Ma non è che non devi fare niente, fa tutto l'ufficio stampa, no, cioè Perdi proprio, perdi proprio una parte importante della sua funzione, della funzione che ha la promozione Cioè, tutto quello che esce, perché poi gli uffici stampa ti mandano i report, ti mandano i link Beh, prendi quei link e ricondividili, cavolo, se tu non lo fai E' assurdo, cioè per me è assurdo Io sono sempre stato una persona che, anche la webzine sconosciuta, boh, si parla di me su Sarà che ho l'ego a palla, c'è chi, magari qualche artista è più riservato, c'è chi non fa niente Però se non vi promuovete voi, chi vi promuoverà? Perché alla fine un ufficio stampa fa il suo lavoro, eeeh, ok Soprattutto quelli di fascia media, o piccoli uffici stampa Ma, voi potete e dovete sfruttare il lavoro dell'ufficio stampa E farlo sembrare, ecco che cosa dovete fare, dovete far sembrare quelle pubblicazioni come Cavolo, la gente non deve capire niente, deve dire, oh ma questo è uscito il disco, guarda Ogni giorno pubblica articoli, ma che è successo? Perché poi la gente, oggi, domani, vede il post e questo si parla di me qui, si parla di me lì, si parla di me lì Non è che va subito a vedere il giorno dell'uscita, cioè, funziona anche martellando, ragazzi E magari dopo, al terzo, quarto giorno, che voi continuate a condividere le cose, le pubblicazioni E taggate tutti i giornali, rilanciate Dicono, ma fammi andare a vedere, ma chi è questo? Ma che sta facendo? Escono articoli ogni giorno e vi ascoltano, ok? E questo è un processo lungo, ok? E va sfruttato in tutte le sue, in tutte le sue fasi Cioè, tutto quello che viene dall'ufficio stampa va rilanciato Se no, l'avete utilizzato a metà, ok? Magari l'ufficio stampa vi condivide sulla sua pagina e quant'altro Ma poi voi dovete rilanciare, voi dovete fare delle storie su Instagram Voi dovete fare i post e la recensione Fate lo screenshot e lo pubblicate come post su Instagram E fate post su Facebook e sul profilo personale YouTube, la community, se ce l'avete Fate dei video, la rassegna stampa È uscito il singolo, nella prima settimana Vediamo un po' Bisogna creare, si parte dal basso, si crea un po' di rumore E così, perché bisogna abbattere quel muro E piano piano, ok? Si distruggono muri e si può finire sempre in testate più grandi Perché non è che... Poi, un'altra cosa importante Cioè, le testate grosse, cioè, stanno a guardare Non è che stanno lì nell'ambiente Vedono, no? Anche i colleghi più piccoli che cosa pubblicano, che notizie E poi, voi ovviamente, o il vostro ufficio stampa Ma, manda, diciamo, il comunicato stampa a tutti, ok? Quindi, arriva a tutti E magari chi all'inizio decide di non pubblicare quella notizia Però quel nome, ogni volta, se lo vede Magari il primo singolo non fa niente Il secondo singolo, il terzo singolo decide Oh, ma questi, magari il primo singolo non mi piaceva tanto Però hanno ottenuto tante cose Il secondo nemmeno Il terzo è bello Allora, poi, siccome questi si stanno sbattendo tanto Preferisco dare spazio a loro, ok? Quindi ci deve essere questo lavoro E se voi non sfruttate Se voi siete fermi E se tutte le pagine sono ferme Non vi sedete, ecco, ok? Va bene l'investimento Affidarsi dei professionisti Sacro santo Ma non sedetevi Cioè, anche se vi affidate dei professionisti Dovete... È molto importante anche il lavoro di comunicazione Che arriva dai vostri social A meno che non avete qualcuno che ve le gestisce a quel punto Ok Però, chi parte dall'inizio Chi parte all'inizio Cioè Di solito, no? Non si hanno grandi budget Quindi Quando si inizia Si fa sempre Da sé E quindi Bisogna un po' sbattersi E mi raccomando Ci tenevo A darvi questo consiglio Fondamentale Se no state sprecando Diciamo un po' Quello che avete pagato E state buttando via Tutte le... I feedback E le pubblicazioni Che l'ufficio stampa ha ottenuto Mi raccomando Non state fermi Non rilassatevi Non è che Se avete l'ufficio stampa Voi non dovete fare niente No Dovete lavorare anche voi E curare i vostri canali Se volete una mano Per far uscire Comunicati stampa Crescere Playlist Spotify Promozioni su Spotify Sulle webzine Su YouTube Anche Playlist E quant'altro Andate sulla descrizione Di questo video Cioè Se vuoi farti promuovere da me Ci sono tre pacchetti Così Adatti a tutte le task Che vi posso aiutare Nel lavoro di promozione A integrare il lavoro Che fate voi Questi pacchetti Nascono proprio Con questo obiettivo Cioè Aiutarvi Visto magari Chi non ha il budget Per prendere un ufficio stampa Completo Può Fare metà del lavoro O fare Praticamente Gestire da solo Autopromuovendosi E poi Integrare con questi miei pacchetti Nella descrizione Trovate tutto Anche il corso Musicista Consapevole Se volete imparare Ad autopromuovervi A pubblicarvi da soli E quant'altro Mi raccomando Non sprecate Tutte le pubblicazioni Qualsiasi Forma Di blog Webzine Sito Giornale Online Che parli di voi Va rilanciato Anche se magari Copiano e incollano Soltanto l'ufficio stampa Va bene Si parla di noi anche qui Si parla di noi anche qui Serve per Creare autorevolezza Alla vostra musica Mi raccomando Fatemi sapere Che ne pensate Come vi comportate Se questi video Vi sono utili Come al solito Vi chiedo di iscrivervi Al canale Supportarmi E Commentare Mettere like Arriviamo a 10.000 iscritti Ragazzi Dai ci tengo Grazie a tutti Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao